Procede a grandi passi il percorso di restituzione della caserma Monte Grappa alla città di Bassano del Grappa, caserma che dopo anni di chiusura si appresta a diventare un centro di servizi e di aggregazione per un intero territorio. Gli assessori regionali Elena Donazzane e Roberto Ciambetti hanno incontrato il prefetto di Vicenza Eugenio Soldà per aggiornarlo sull'accordo tra Regione e De Manio che vedrà il passaggio della struttura dallo Stato al Veneto. Un passaggio approvato dal Consiglio regionale il 28 ottobre e per il cui perfezionamento i due esponenti della Giunta Zaia hanno auspicato un coinvolgimento della Prefettura. Un'alleanza con la Regione utile non solo ad accelerare il processo di realizzazione del nuovo commissariato per la Polizia di Stato e della Polstrada ma anche per favorire i rapporti tra la Regione e le diverse amministrazioni dello Stato. Più rapide dovrebbero essere invece le fasi di assegnazione della palazzina destinata agli Alpini, parte di un progetto molto ampio che nell'area della caserma Monte Grappa prevede anche la realizzazione di appartamenti di edilizia residenziale pubblica.